Ciao, creatura, io sono Vecati Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di CosaE, A-S-M-A. Vi ho fatto votare un sondaggio su Instagram e in tantissimi avete votato l'apertura della Mystery Pack di Tiger. E quindi dopo tanto, 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 tanto tempo, rieccoci con una nuova unboxing. Ho acquistato una sola Mystery Pack di Tiger, l'ho scelta diciamo tra tante, è quella normale, non quella grande, quella da 4 euro. E in una si intravedeva dei pulcini palesemente di Tabasco e in altre si intravedevano altre cose che erano un po'... E in questa si intravedeva soltanto un unico oggetto che non ha tra l'altro idea di cosa sia S-U-R-P-R-I-S-E Un punto esclamativo, surprise, 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 surprise. Comunque, da come puoi vedere, si intravede qualcosa che sembra una specie di oggetto, gestino. Non lo so, non ne ho la più pallida idea di Vemini, forse sì, forse no. Non lo so, lo scopriremo solo aprendo la busta, sperando non ci sia solo quell'oggetto all'interno. È pesante, ma erano tutti più o meno un po' pesanti come questo. Però appunto spero che non ci siano dei pulcini dietro, perché allora destino che io li abbia e verranno tinti tutti di nero e finiranno da qualche parte, sicuramente, come decorazione, cosa. Munita di forbici, adesso andiamo ad aprire questo mystery bag. Ho sbirciato, mi sembra abbastanza interessante. Non ho capito cosa c'è, ma mi sembrava interessante. Sicuramente sono pochi oggetti, però belli, non lo so, spero. Allora, va bene, va bene, te mi hai convinta, va bene? Faccio sbirciare anche te, ha ragione che non è giusto che io abbia sbirciato e tu niente, ha ragione. Una sbirciatina, veloce, veloce, va bene. Ecco, basta così una sbirciatina a testa e si vedrà adesso insieme che cosa contiene. Wow, sono emozionata da tantissimo che non ne apro una. E' un vassoio decorativo, carino. E' tipo un piatto di, cos'è, vimini raffia, non so come si chiami. Ma è bello, è estetica, poi è un buon odore. Sa come delle sedie, quelle in femmini, non so come si chiami. Comunque mi piace l'odore, sa di qualcosa di vintage, tipo. Bello, ci metterò tipo uno svuotatasche anche per mettere le chiavi di casa. Perché non so se ci si può mettere il codice decorativo, quindi in realtà sarebbe solo per bellezza. Ma io voglio metterci delle cose dentro, tipo delle caramelle. Non lo so, ci devo pensare, fammelo sapere nei commenti, consigliami. Comunque molto bello, mi piace. Poi proseguiamo. Non ci credo, questo mi serve. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, creatura. Figata. Praticamente va... Non si vederà mai. Comunque. Va a posto... E beh anche verde, tra l'altro con tutti i colori verde. Va messo sopra a un vasetto di vetro contenente l'acqua. Così il seme di avocado resta qui. E il sederino del seme tocca l'acqua, fa le radici. Bellissimo, io usavo la tecnica degli stuzzicadenti che però, diciamo, tra virgolette danneggia un po' il seme perché devi buccarlo. Invece così non c'è bisogno di buccarlo. Ancora meglio. Che bello, sono contentissima. C'è solo questo... Non so se venga uno o due euro, ma già ne ho passato la pena. Una mini borsa. Allora, vediamo che cosa dice. Lavare con colore simile. Ok, però... Cartellina, etichetta... Ah, shopper. Di questo tessuto resistente che è molto bello. Sembra una cosa un po' bio, tipo non so le cose che hanno i vegani. E dice, è Everyday Hero con shopping. Con una stella dorata. È piccina, però ci si può mettere... Anche... Si può utilizzare anche per mettere, quando vai a fare la spesa, magari la frutta, la verdura. Invece di comprare i sacchettini, quelli più degradabili, che ti li fanno pagare un centesimo e poi si rompono subito. C'è un sacco di roba qui dentro. Sembrava molto più vuota. Che belli! Allora, c'è una mosca. Dicevo, elastici per capelli che mi servivano. E hanno anche i bonbon. Ma sono super cute. Che belli. Giuro mi servivano. Che fortuna. Sono addirittura sette. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette colorati. Tanto ormai adesso, come puoi vedere, mi vesto colorata. Perché in ufficio, oltre alle camicie, metto anche qualche t-shirt colorata. Per essere un po' più sobra ed elegante. E soprattutto per non morire di caldo. Perché ci sono 4.000 gradi. La mia auto è nera. E quindi, ecco. E ho già da fare assunto tutta la mia estate. Pelli, mi piacciono, sono molto carini. Sono belle anche come braccialetti. Perché io, vabbè, qua qui ho un braccialetto nuovo che ho fatto io. Però di solito io li lascio per capelli. Lì, indosso, li tengo qui al pulso per averli sempre sotto mano. Quindi questi sembrano anche quasi di braccialetti estivi. Vabbè, quelli con i pomponi sono un po' magari scomodi. Però per il resto belli mi piacciono. Li userò sicuramente. Tempo fa avrei detto belli ma non li uso. Invece belli li userò. Adesso è cambiato tutto. Che schifo. Che schifo. Questo insetto schifoso. Allora, insetti appiccicosi. Questo qua lo regalo al figlio di un mio collega che già ha otto anni. Sicuramente gli piacerà. È una scolopentra, se si chiama così, che a me fanno schifissimo quegli insetti lì. Però vabbè, visto così, non è la stessa cosa ovviamente. Mi fanno impressione, diciamo, tra virgolette schifo. Quelli reali ovviamente, quelli giganti. Ma questo qua, gumboso, è carino. Però io non me ne faccio niente, quindi lo voglio regalare. Poi vediamo che c'è, qui c'è una specie di uccello. Questo cos'è? Palloncino in alluminio. In che senso? Palloncino in alluminio, in che senso? Ok, è letto in inglese, ha più senso. Foil, pallon. È un palloncino di una specie di supereroe. Flash, però versione verde non è rosso, flash. Vabbè. Foil quindi ha quel materiale un po' metallizzato, no? Ma è gigante. Non lo apro perché mi sono sentita a disagio come quando apro le schede elettorali che le apro appena appena per votare. Poi le richiudo subito perché ho paura di non applicarle nel modo giusto e non voglio restare lì troppo a troppo tempo. C'è una pratica e comoda cannuccia in carta per gonfiare tutto sto gigantesco coso che è tipo un metro. Allora, lo confierò, forse sarebbe meglio con una pompetta, ecco, però vabbè, a fiato, non lo so. Vabbè. Potrei, l'unica volta che mi verrebbe da usarlo, se faccio qualche festa a caso, proprio perché non c'entra niente, non c'entra niente, però come decorazione festiva, festosa, potrei utilizzarla. Tanto ce l'ho, perché non saprei a chi darlo. Organizzarono una festa a tema supereroi, random, trash, e allora sì, sarebbe perfetto. Delle maschere di carta, tema supereroi, quindi, non so, inviti, ah, sono inviti, inviti per la festa dei supereroi che farò, supereroi trash, Martina si è invitata, e quindi faremo questa festa a casa mia, nella casa quella, quella mia, ovviamente, hai capito quale, e, creatura, sei invitata anche tu, ognuno avrà questo invito, con questa maschera, e saremo tutti vestiti da supereroi trash inventati, mischiando, visto che qui c'è flash con vestito verde, sarà un po' un misto, così, una cosa, no sense. Ultime due cose, una, la macchina di flash verde, con questo simbolo che ormai non mi appartiene più, col fulmine, e, c'è scritto Bill Car, la macchina di Bill, che non so chi sia questo Bill, mh, santo cielo, però, vabbè, e qui dice solo auto, comunque, ci vuole un bambino piccolino per questo, non so per chi darlo, devo, devo capire, ci c'è in, al lavoro con me, con lei, c'è qualcuna che ha dei bimbi più piccoli, del ragazzino che avrà la scolopentra, ma sicuramente troverò a chitarlo, chitarlo in questa macchina, ultimo oggetto era quella specie di uccello, ma è super cute, però, non è, non è un giocattolo solo per decorazione, ho capito, ma cos'è decorazione da appendere sul vaso, ma è super cute, ti chiamerò tzatziki, come la salsa, tzatziki, molto bello tzatziki, 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 questo va su un vaso, fa finta di essere un uccellino vero appoggiato, che si chiama tzatziki, super cute, bellissimo questo, è fatto veramente bene, che è pesante, comunque, non so che materiale sia, non lo dice, ovviamente, no, vabbè, fa niente, è pesante, forse, sicuramente se cade si rompe, sono sicuro, 100%, perché è troppo, cioè non è plasticona, ecco, comunque, è bello questo, lo userò in campagna, là, perché, secondo me, ci sta da Dio, là, in campagna, perché qua, invece lì, è proprio l'atmosfera giusta, molto estetica, allora, la cosa che mi è piaciuta di più è stato, sorprendentemente, l'uccellino, e questo mi è piaciuta, finirò tutto a casa mia, quindi questo, questo, finisce a casa mia, subito, direttamente, poi, ah, questo, questi due, tantissimo, che userò gli elastici e l'affare di far crescere l'avocado, quindi tutti questi vanno a casa mia, e poi, basta, faremo una festa, ma sì, anche la borsetta, perché è sempre utile, a terra nello zainetto, sicuramente mi tornerà utile, e, vabbè, sto schifezza qua, la regalo, non c'è problema, la schifezza, nel senso che è un gioco bello per i bimbi, però io, uno non me ne faccio niente, due, la scolopain, tra poi, mi fa impressione, anche se devo dire che di questo colore qui è molto fashion, è una specie di verde, tra il verde, boh, non lo so che verde è questo, onestamente, perché dalla videocamera ovviamente è un colore diverso, c'è un verde diverso, una tonalità differente, però qui è molto, un verde molto bello, penso di aver avuto anche un periodo con questo colore qui di capelli, comunque, sia un po' alping green, adesso che ci penso, accidenti, vabbè, io sono abbastanza soddisfatta, perché quelle quattro cose lì, se contassi, che costano un euro, ho preso, insomma, e, più mettiamoci la borsa, ma sicuramente non sono tutti un euro, comunque, sono soddisfatta, poteva sicuramente andarmi molto peggio, quindi, vediamo il lato positivo, è stata una unboxing molto rilassante e anche fruttosa, se si può dire così, non so se ha il significato che intendo, comunque, non ho fatto molti suoni, creatura, aspettati l'invito qua alla festa di supereroi trash, e, vediamo questo che sono, detto giù, hai fatto giù, io ti auguro un buonanotte, un buon relax, ciao, creatura, Grazie.